Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, dovremo parlare di maltempo e dell'alluvione che sta colpendo la Romagna, situazioni di preoccupazione anche nel Ferrarese. Sentiremo a breve tutti gli aggiornamenti, ma in questa edizione parleremo anche di cronaca e di casi irrisolti che riguardano il Ferrarese e sempre in questa edizione parleremo anche di un incendio avvenuto su un treno dove c'erano dei pendolari, soprattutto studenti, quindi tanta cronaca in questa edizione, ma parleremo anche di economia, di petrolchimico, ma anche di eventi che caratterizzeranno il prossimo fine settimana. Ma apriamo subito con le alluvioni in Romagna, ancora alluvioni in Romagna e nella regione. Nelle ultime ore si registrano dispersi case e strade allagate nel Ravennate, nel Forlivese, anche frane in Appennino. Allerta rossa anche venerdì per il livello del fiume Reno che tocca i territori di Argenta. Trecento città del Guercino colpita anche da una forte ondata di maltempo nel pomeriggio di giovedì. Secondo il sindaco Edoardo Accorsi, in alcune zone i danni sembrerebbero ingenti ad Argenta. Invece, secondo il sindaco Andrea Baldini, si sta affrontando la situazione che preoccupava di più, ovvero quella della frazione di Campotto, già colpita dall'alluvione del maggio 2023. Primo cittadino che ha emesso un'ordinanza d'evacuazione per le famiglie che vivono in alcune aree a rischio inondazione di Campotto. Quindi una situazione in aggiornamento e stiamo seguendo anche però quanto sta avvenendo di più grave nel resto della regione. Le situazioni peggiori si stanno vivendo nel Ravennate. Sentiamo allora la Presidente facente funzioni della regione Emilia Romagna. Diciamo che nella regione le situazioni oggettivamente più critiche sono sui bacini del Segno e dell'Ammone, quindi nel Ravennate, dove abbiamo un interessamento a Cotignola sul segno di un allagamento che si sta propagando in Campania e che potrebbe raggiungere le porte di Lugo, soprattutto la parte in destra della cittadina di Lugo. Il bacino dell'Ammone, che è significativo perché ha raggiunto soglie e picchi di piena superiore anche a maggio del 2023, dove stiamo avendo delle tracimazioni e quindi tracimazioni che interesseranno da un lato, quindi in sinistra, il comune di Bagnacavallo e che in destra vanno verso il territorio di Ravenna. Sul bacino di Bologna abbiamo avuto un interessamento e stiamo tuttora gestendo gli interessamenti del bacino dell'Idice e quindi in questo caso il fiume Idice è dove avevamo appositamente aperto una finestra per evitare una rottura strutturale importante dell'Idice, dove sta tracimando da questa notte l'Idice stesso, sul Quaderna, dove stiamo intervenendo perché sia su Idice che su Quaderna abbiamo già i cantieri, le aziende pronte, e una piccola parte sul Silaro, ma sul Silaro diciamo poco significativo, su cui anche in questo caso stiamo intervenendo rapidamente. Questo per quanto riguarda la valle di Bologna. Ovviamente non abbiamo un'estensione territoriale di eventi come quello dell'anno scorso, perché i bacini che sono stati particolarmente colpiti sono di meno. Non abbiamo avuto l'interessamento per esempio di Forlicentro, di Cesena, che erano state allagate lo scorso anno, proprio perché alcuni fiumi non hanno avuto i picchi di piena che abbiamo osservato questa notte. E gli stessi fiumi che sono stati interessati dai picchi di piena hanno superato anche di oltre un metro il franco dello scorso anno. Per cui stiamo gestendo una situazione difficile, ma che probabilmente anche grazie ai tanti cantieri che abbiamo fatto è meno drammatica di quello che poteva essere, perché tutte le operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria le abbiamo messe in campo tutte. Ora si tratta di gestire questa fase e di mettere in atto immediatamente tutte le operazioni per il ritorno alla normalità. Sto già vedendo delle polemiche e mi dispiace anche perché oramai è un late motive. Nel momento di maggiore emergenza lo sciaccallaggio per quanto mi riguarda non è ammesso. Non è ammesso soprattutto quando ci sono territori che stanno dando l'anima e il sangue attraverso i propri sindaci, i propri amministratori. E bisogna anche raccontare che stiamo facendo tantissimi cantieri, tantissimi cantieri e che è stata fatta un'opera straordinaria. Non sufficiente anche perché da questo punto di vista noi abbiamo bisogno che vengano fatte opere straordinarie. Tutta la manutenzione possibile sui fiumi è stata fatta tutta. E' stata fatta tutta dal punto di vista degli interventi strutturali. Quindi noi abbiamo bisogno in questo momento, dopo questo evento, di mettere in campo anche la strategia dei piani speciali. Quindi rispetto alle polemiche devo dire che mi dispiace molto perché questo non aiuta i cittadini, non aiuta le istituzioni e noi dovremmo essere tutti dalla stessa parte. Però oramai è da un anno e mezzo che va avanti così. Io credo che non è il giusto esempio che dobbiamo dare nei momenti di emergenza, anche perché da questo punto di vista vedo tante polemiche sui social. Avete pulito i fiumi, avete pulito i canali, avete fatto gli argini. Tutte queste operazioni sono state fatte. Laddove c'era ancora presente magari della vegetazione era a valle, in territorio dove in questo momento non abbiamo avuto dei problemi. Quindi noi tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Forse qualcuno si deve interrogare se è necessario fare qualcos'altro perché i comuni sono stati lasciati soli dal punto di vista delle risorse umane. Dopo un'alluvione di questo genere non sono ancora riusciti ad assumere il personale e noi non possiamo mandare avanti un territorio con queste fragilità. Protezione civile e vigili del fuoco di Ferrara in aiuto delle popolazioni colpite da questa alluvione come più di un anno fa in aree sempre alluvionate. Dobbiamo parlare adesso all'interno della recente fila di Porto Maggiore. Qui si è voluto valorizzare il lavoro di chi sta soccorrendo queste popolazioni appunto di protezione civile, di vigili del fuoco e di altri enti e volontari impegnati durante le alluvioni. Allestita nella recente fiera un'area espositiva con mezzi di soccorso, attrezzature, tutto il materiale con cui si vuole mettere in luce le modalità di azione e di aiuto alla popolazione mostrando ai visitatori le realtà che spesso rimangono dietro le quinte coinvolti diversi paesi in cui andarono queste persone ad aiutare. Parliamo di Campotto, di Sant'Agata, sul Santerno e Prada a queste frazioni di Faenza mentre Campotto frazione di Argenta. Allora sentiamo come sono intervenuti e come stanno anche intervenendo protezione civile e vigili del fuoco in queste situazioni. Enrico Rambelli, assessore del comune di Sant'Agata a Porto Maggiore con questo gemellaggio, nato in occasione di un evento bruttissimo che è quello legato all'alluvione, però questa collaborazione continua ed è importante. Sì, come diceva lei, gemellaggio nato in un'occasione molto triste però anche le occasioni tristi possono comunque dare vita a un qualcosa che innanzitutto è prolungato nel tempo e un qualcosa di piacevole. Io, in rappresentanza dell'amministrazione di Sant'Agata sul Santerno, voglio ringraziare il comune di Porto Maggiore per l'invito ma soprattutto per il supporto che ci hanno fornito un anno e mezzo fa. Com'è la situazione adesso? La situazione a Sant'Agata sul Santerno è una situazione un po' bloccata nel senso che è un comune ancora in parte fermo a quanto accaduto un anno e mezzo fa basti pensare che il municipio ancora non è rientrato nel suo luogo d'ufficio quindi siamo attualmente ospiti presso le scuole medie che tra l'altro dopo domani partiranno e quindi diciamo siamo ancora in stand by ma siamo fiduciosi prima o poi di ritornare alla normalità in tutto e per tutto. Massimo Mazzotti, presidente società sportiva Prada di Faenza e Russi, maggio 2023 lo vediamo nei cartelloni e non poteva non essere così, siete qua perché è nato questo gemellaggio, questa unione con Porto Maggiore. Beh probabilmente c'era un contatto anche a livello di persone perché è un ragazzo che è il consiglio ha preso moglie da Porto Maggiore, la prima intervento di Porto Ensi è stato quello di spallare il fango, di venirci aiutare su questo sistema qui e quindi per noi è stato il primo impatto reale e vero che ci ha dato Manforte di andare avanti. Qual è la situazione adesso? La situazione adesso grazie a tutti quelli come le associazioni di Porto Maggiore, il sindaco Dario, l'amministrazione di Porto Maggiore è stata quella di organizzare qualcosa per noi e quindi di devolvere dei soldi a nostro favore e questo ci ha permesso di migliorare le nostre strutture, di metterle a posto e di cercare di continuare. Già l'anno scorso abbiamo intrapreso la terza categoria che facciamo con la federazione di Ravenna e quest'anno siamo riusciti a fare la festa della famea che l'anno scorso ci aveva distrutto perché già tutto era preparato, erano proprio i giorni della nostra festa e ci ha permesso di continuare. Quindi il ringraziamento di cuore va proprio a questa realtà che ha dato Manforte a noi per continuare a portare avanti le nostre attività. Questo ampio spazio per ricordare quanto è importante la protezione civile ma anche noi le chiediamo per chi si vuole avvicinare? Certo, noi siamo qua appunto invitati dall'amministrazione di Porto Maggiore e siamo qua anche per chi si vuole avvicinare visto che è nata una nuova associazione qua a Porto Maggiore dei bersaglieri che fa parte del coordinamento di Ferrara per cui siamo qua per due motivi. Primo questo e secondo perché abbiamo anche avuto anche noi delle esperienze nel maggio del 23 in diversi paesi tra cui appunto anche Faenza, Solarolo, Conselice e abbiamo messo in campo tutte le nostre attrezzature possibili per risolvere il problema delle persone alluvionate. Oggi naturalmente in questi giorni proprio per tenere questo collegamento per ricordare quanto sono fragili i territori quanto però le persone soprattutto istituzioni come la protezione civile possono fare molto. Certo, noi ci mettiamo il nostro impegno, il nostro tempo e mettiamo le risorse che ci dà la regione Emilia Romagna, le mettiamo a disposizione dei volontari che possano sempre più essere competitivi nelle loro specializzazioni perché quando si interviene in emergenza la sicurezza è una cosa importante e noi volontari abbiamo il compito comunque come tutti di portare a casa la nostra vita quindi più sicurezza vuol dire lavorare bene e portare a casa appunto dalle nostre famiglie e noi ecco. Qua naturalmente tanta tecnologia, tanta innovazione, ci sono i droni che in questo momento stanno sovrando però abbiamo visto anche dei cani. Certo, abbiamo un gruppo cinofili che è impegnato in vari campi nella ricerca delle persone scomparse ed è una delle nostre specializzazioni come abbiamo la specializzazione dell'antincendio boschivo e anche appunto dei droni e sulla parte diciamo della parte idrologica quindi abbiamo i mezzi adatti per ogni emergenza. Ecco, vetrine come queste che sono poi paesi, paesi insomma comunità che hanno molta sensibilità come ha dimostrato un po' tutta l'Emilia Romagna che significato hanno proprio la presenza qua? Ha un significato fondamentale perché comunque il supporto che abbiamo ricevuto un anno e mezzo fa è stato un supporto fondamentale per tutta la cittadinanza proprio per fin da subito cercare di rialzarci, di risollevarci soprattutto da un punto di vista morale quindi queste vetrine io mi auguro che vengano veramente mantenute nel tempo proprio a segno e consolidamento di quanto è successo un anno e mezzo fa. Per ripartire? Per ripartire, assolutamente, anche possibilmente più forti di prima. Torneremo ovviamente con aggiornamenti sull'attualità, su quanto sta avvenendo in Romagna ma anche nel territorio ferrarese con questa nuova ondata di martempo. Ma adesso passiamo alla cronaca giudiziaria il calciatore di Argenta, Denis Bergamini, fu ucciso con una sciarpa o un sacchetto e solo dopo adagiato sull'asfalto dove fu investito dal camion lo hanno detto i magistrati della procura di Castrovillari in Calabria che giovedì hanno iniziato la requisitoria che si conclude venerdì nel processo a carico di Isabella Interno l'ex fidanzata di Bergamini accusata di omicidio volontario in concorso per la morte del calciatore del Cosenza avvenuta lungo la statale 106 a Rosetto Capospulico il 18 novembre del 1989. Il PM ha negato la teoria di Interno che avrebbe parlato di tuffo di Bergamini sotto il camion il processo riprenderà venerdì con la conclusione della requisitoria e la richiesta dell'accusa. E adesso parliamo dell'incendio avvenuto sul treno di Pendolari giovedì mattina sulla linea Ferrara-Suzzara nove i feriti, diversi studenti coinvolti tanti stavano raggiungendo la città per andare a scuola. Momenti di tensione giovedì mattina sulla linea ferroviaria su Zuzzara-Ferrara dove un incendio ha coinvolto un treno partito da Sermide nel Mantovano alle 6.38 e diretto nella città estense dove diversi ragazzi studiano alle superiori il rogo si sarebbe sviluppato nella motrice mentre il treno era in corsa tra Sermide e Felonica sempre nel Mantovano costringendo il treno a fermarsi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi con due automediche, due ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri nove passeggeri, in gran parte studenti hanno riportato intossicazioni per aver respirato il fumo due di loro saltati dai finestrini per la paura hanno riportato ferite alle gambe e sono stati trasportati in ospedale anche se nessuno in condizioni gravi i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme poco prima delle 8 e hanno aiutato nell'evacuazione dei passeggeri la circolazione sulla linea è stata interrotta e sono in corso indagini per accertare le responsabilità le cause dell'incendio infatti sono al vaglio degli inquirenti Capanone a fuoco nella serata di mercoledì a San Nicolò frazione di Argenta nessun ferito ma struttura che ha subito danni ingenti secondo i carabinieri erano in corso lavori per la realizzazione di locali frigo militari che stanno indagando sull'accaduto a lavoro tutta la notte i vigili del fuoco impegnati nel domare le fiamme fino alla mattinata di giovedì e ora parliamo di una novità importante all'interno del petrochimico di Ferrara dove i sindacati CGL e Cisle Will hanno sottoscritto un accordo che ricade in maniera positiva su 18 lavoratori che operano in appalto all'interno del polo chimico il passaggio da Ageste a Ideal Service migliora, dicono le sigle sindacali lo status lavorativo di queste persone sentiamo allora le motivazioni che hanno spinto i sindacati a sottoscrivere questo accordo Siamo arrivati a fare questo accordo sul cambio appalto quindi passare i 18 lavoratori in forza da Ageste sotto all'azienda Ideal Service dopo che nel giugno del 2024 abbiamo chiesto a Ageste di applicare l'accordo di secondo livello sottoscritto da noi con Ideal Service abbiamo sottoscritto questo accordo di passaggio 18 lavoratori in modo tale che questi dal primo di ottobre quando passeranno avranno gli stessi diritti e la stessa applicazione dell'accordo di secondo livello che abbiamo fatto con Ideal Service come ripeto buoni pasto tempo tutta e lava nono Per il discorso dei tempi consigliativi vita lavoro la modifica del turno di lavoro dà la possibilità di avere più spazi più momenti liberi per cui più tempo per il riposo psicofisico la parte economica ovviamente riguarda il buono pasto che aumentato a 8 euro dà la possibilità insomma di avere circa 180 euro in più al mese al lavoratore in buoni e dal punto di vista di salute e sicurezza perché con il discorso del lava noleggio cioè del vestiario dedicato all'ambiente chimico in questo caso dà la possibilità ai lavoratori di non dover più portare a casa questi indumenti che sicuramente erano contaminati a livello chimico e gli dà la possibilità insomma di lavarli sul posto di lavoro L'accordo sottoscritto oggi è un primo passo di un ragionamento più complessivo che come CGL e CISLUIL abbiamo avviato per il settore logistico che opera all'interno del petrolochimico siamo perfettamente consapevoli che questa operazione non può che essere una tappa una tappa di un percorso che deve coinvolgere anche i lavoratori di AGEST che rimangono in capo alla cooperativa e che operano ad esempio in BASEL o i lavoratori di CFP che operano nei cantieri di IARA senza dimenticare quelli che operano per SMIT Italia l'obiettivo è appunto quello più complessivo di provare ad uniformare migliorandoli i trattamenti economici e normativi di tutto il personale che oggi opera nella logistica del petrochimico E settembre anche a Ferrara è il mese dedicato alla sensibilizzazione sull'Alzheimer nella mattinata di sabato prossimo 21 settembre in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer si rinnova l'appuntamento con tutti insieme sulle mura a camminata non competitiva per l'Alzheimer alla sua seconda edizione con partenza alle ore 10 dalla Porta degli Angeli ritrovo alle ore 9 l'evento patrocinato dal Comune di Ferrara e organizzato in collaborazione tra AMA, Associazione Malattia Alzheimer e Esercizio Vita con il supporto del Lions con il suo scopo della manifestazione intensificare l'opera di conoscenza alla cittadinanza di un problema che nella sola provincia di Ferrara riguarda quasi 6.300 persone e con questo appuntamento per sabato prossimo è tutto io vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale a a a a a a a a a Grazie a tutti.